Anche la Biblioteca Comunale di Palma di Montechiaro si digitalizza ed entra a far parte del Media Library Online, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale. Volendo mantenere il suo ruolo di primo piano nella vita culturale e sociale della comunità, come nei programmi dell'amministrazione comunale presieduta da Pasquale Amato, ha spiegato la direttrice della Biblioteca, Giovanni Falcone, Provvidenza Maria Mogavero, Non può non tenersi al passo con i tempi, deve quindi garantire ai propri utenti anche la conoscenza e l'uso delle nuove tecnologie e pertanto acquisire e offrire loro i nuovi contenuti digitali in commercio. Ad oggi le biblioteche aderenti sono circa 3.900 in 15 regioni italiane e paesi stranieri. Attraverso il portale della biblioteca, all'indirizzo palmadimontechiaro.medialibrary.it, l'utente potrà consultare gratuitamente la collezione digitale della biblioteca. E-book, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online e archivi di immagini e molto altro. Potrà utilizzare il servizio di prestito sia dalle postazioni della biblioteca che da casa, dall'ufficio, dalla scuola e non solo. Per alcune tipologie è prevista anche la risorsa in download che si potrà scaricare e portare con sé sul proprio dispositivo mobile. Per utilizzare Medialibrary Online basta essere iscritti alla biblioteca. L'utente dovrà chiedere al bibliotecario un account Medialibrary Online e verrà comunicato un username e una password con cui fare il login.